Gentili telespettatori, buona giornata. Colpo di scena ha riammesso in manovra la proposta del salario minimo di Conte e Schlein. Questa modifica era stata dichiarata inammissibile, ma oggi rientrata dopo l'esame del ricorso fatto dalla sinistra. Che cosa vuol dire? Che la commissione di bilancio della Camera ha riammesso una modifica, una proposta di modifica nella finanziaria, presentato da diversi esponenti dell'opposizione, tra cui Schlein, Conte e Fratoianni, che chiedeva di introdurre il salario minimo. Ieri inammissibile, c'è stato un ricorso dichiarato ammissibile. Si fa, in questo articolo, in questa proposta di modifica, si fa riferimento a una disciplina organica volta a introdurre il salario minimo legale. Contiene norme che, pur essendo di carattere prevalentemente ordinamentale, appaiono tuttavia suscettibili di produrre effetti finanziari. In particolare, il riferimento al riconoscimento di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento a tale istituto. Questo emendamento, praticamente, è molto simile alla proposta di legge che era stato presentato da Più Europa, Azione, AVS, 5 Stelle e Partito Democratico, che prevede il trattamento economico minimo orario stabilito dal CNEL. Non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi. Allora, io sono favorevole assolutamente al salario minimo, questo ve l'ho sempre detto. Il salario minimo non è né di destra, né di sinistra, né di centro, né di sopra, né di sotto. Il salario minimo è civiltà. Le maggiori forze economiche al mondo, i maggiori paesi economicamente avanzati, hanno tutti il salario minimo. Noi no. La storiella che il salario minimo fa fallire le aziende non è vera, perché sennò sarebbe fallito mezzo mondo. È una storiella che racconta chi non vuole introdurlo. Ovviamente, le retribuzioni italiane sono tra le più basse d'Europa. Terza economia europea con le retribuzioni da paese in via di sviluppo. Ovviamente, come vi ho sempre detto, introdurre un salario minimo all'improvviso vorrebbe dire triplicare gli stipendi. O perlomeno raddoppiare la gran parte degli stipendi, che evidentemente risulterebbe un colpo per le aziende non indifferente. Questo non va fatto in una volta sola. Oggi prendi 1000 euro, domani ne prendi 2000. Questo va fatto a scaglioni. Va fatto in 5-6 anni. Dove ogni anno ci sono gli aumenti in base all'inflazione. Però, oltre a quelli, ogni anno c'è una sorta di adeguamento per questo salario minimo, per portare la paga oraria a un minimo. A sinistra fanno un grosso errore e continuano a ripetere questo errore. Il Movimento 5 Stelle propose il salario minimo prima del 2018. Nel 2017 siamo a 8 anni, 8 anni fa. Quei 9 euro lordi è roba di 9, 8, 9 anni fa. C'è stata di mezzo anche un'inflazione a due cifre. Quindi è presumibile pensare che quei 9 euro siano oggi 11-12 euro lordi l'ora come minimo. Però loro si sono fermati a 8 anni fa. Quindi fare un salario minimo con i valori di 8 anni fa mi sembra assolutamente ridicolo. Perché se proponiamo un salario minimo ancora a 9 euro lordi l'ora, siamo ancora nella povertà relativa. I partiti di opposizione sono tutti su una linea simile. Ellie Schlein dice che è una grande battaglia, anche se la destra volta le spalle a milioni di lavoratori che attendono risposte. La destra ha affossato la nostra proposta, con le altre forze d'opposizione noi andiamo avanti. Aiutateci a raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare. Sotto i 9 euro non è lavoro ma è sfruttamento, non deve essere legale nel nostro paese. Io dico che anche 9-10 euro è sfruttamento. I 9 euro è troppo vecchio come valore. Anche Conte, leader dei 5 Stelle, dice che è ancora salario minimo. Qui veramente incomprensibile l'atteggiamento del governo. Ci sono oltre quasi 4 milioni di lavoratori poveri che lavorano e non riescono a mantenersi. Questo è uno scandalo tutto italiano che non appare in Europa. E questo governo continua ad alimentare questo scandalo mostrando indifferenza. Parliamoci chiaro. La Meloni era d'accordo col salario minimo. Era d'accordo. Infatti aveva fatto partire in commissione il suo salario minimo. Dato che, per esempio, sul reddito di cittadinanza la Meloni era d'accordo. Non l'ha cancellato. Ha fatto il suo reddito di cittadinanza. Dandolo solo a chi aveva realmente bisogno. Voleva fare la stessa cosa col salario minimo. Darlo solo a chi non ha i sindacati alle spalle. Poi quello avrebbe portato comunque a un allineamento di tutti gli stipendi verso il salario minimo. Però la Meloni ha fatto partire l'iter nella commissione per fare il suo salario minimo che si sarebbe chiamato equa remunerazione. Da lì in poi non se n'è mai più parlato. Probabilmente questa equa remunerazione, questo salario minimo per chi non ha i sindacati molto probabilmente è stato bloccato da Salvini e Tajani, gli altri due partiti di maggioranza. Perché Forza Italia sarebbe il partito degli imprenditori. In realtà gli elettori sono casalinghe e operai. Partito degli imprenditori. L'imprenditore l'ha fondato, ma definirlo il partito degli imprenditori, insomma, ce ne vuole. Anche la Lega si è sempre sentita al partito di comunque quelli imprenditori, imprenditrici, autonomi. E allora non vogliono il salario minimo perché andrebbe contro, teoricamente, i loro elettori. Ma anche gli elettori della Lega non è che sono imprenditori o industriali. Pertanto la Meloni è stata bloccata, con molta probabilità, dai due soci di governo. O così, o così. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video, tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove poi trovate almeno un video come questo. Questi video poi sono caricati nella pagina di Facebook, che si chiama Teleitalia, si chiamava Teleitalia, oggi si chiama Luca Vincitore. Grazie a tutti e arrivederci a presto.